Ragazzoli belli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, finalmente possiamo dire che dopo 4 mesi è arrivata la season 2 ufficiale di Fortnite. Finalmente era ora, aspettavamo questo momento da troppo tempo, sì, è vero, avete ragione. Prima di iniziare con il video, ragazzi, invito a lasciare da subito un bel mi piace a questo video per supportarmi, di seguirmi su tutti i miei profili social che trovate qui sotto in descrizione, a partire dal mio profilo Instagram e il mio profilo Twitch dove streammo tutti i giorni. Dato questo, ragazzi, come ho detto della miniatura, sì, hanno aggiunto una nuova rarità all'interno del gioco. La rarità più forte adesso non è la leggendaria, ma è la rarità mitica, che rende le armi di un devastante che proprio non... Ragazzi, ci sono delle armi che sono rotte, ci sono delle armi che sono assolutamente distruttive in una maniera pazzesca. Stiamo parlando, ragazzi, del ritorno della minigun, del ritorno del barret, del ritorno dell'arco, del ritorno del rampino con usi infiniti, ragazzi, c'è delle cose veramente pazzesche, però devo dire che per le pubbliche sono delle aggiunte, secondo me, molto molto divertenti. Non per il competitive, ma per le pubbliche sono molto belle. Detto ciò, ragazzi, vi ricordo che se acquistate il nuovo Battle Pass della nuova season, che è molto molto bello, vi ricordo di utilizzare il codice creatore Corato messo nell'item shop per supportarmi. Detto ciò, ragazzi, una volta acquistato il Battle Pass con il mio Creator Code, farete tanti punti esperienza. Ma ora, godetevi il video. Whee! Beh, niente, dove andiamo? Donna Nuova? Eh, vedi tu, sì. Lì in fondo? L'ho buttata, lì. Siamo un po' letta? Eh, sì, un po', sì. Ne parla di perché sono i bot, proprio i giocatori, quelli computer. Ok, lì in occhi. Ma è bellissimo il razzo. Secondo me ti dà anche vantaggio, sai? Forse è facile da vendere la testa, però ti copre. Ti copre da sotto, dici? Sì. È vero. C'è un team? Solo uno. Infatti ci stanno i bot. Collami tutto, eh. Ti ho bisogno di qualsiasi cosa. Sono degli scandali. L'hai cita l'altro? Questo è un cartone, è un cartone insidioso. Eh, è il tipo il bush. Guarda, vieni con me, vieni con me. Vieni con me. Ah, vabbè, ho capito. Vieni con me. Dovevamo ucciderli, stai qua? Sì, ma vieni con me. Ma quello che è noccato? È scagnozzo, si chiama. Quello che è noccato prima l'ho finito, è un nemico vero. Arrivo. Stai dietro di te. Morto. Prendi il cariano, prendi l'embraccio. Vieni qua e scannerizza sul coso. Vieni. C'è una torretta a sinistra, attento. C'è una torretta lì. No, è una torta a vita. Questa è che spacchi sto coso. Però tipo, qui non ho capito... C'è l'entri mappolo di che cosa, non l'ho capito. Non ho trovato ancora niente qua. C'è gente che spara. Ma stavano i bot sicuro, eh? Credo. Poi bisogna scansionare un nemico. Bot che sparano. Certo, sparano. E poi sparano con lo spasso. C'è gente, c'è gente. Mi ho distrutto, ma sono scarsi. Però lo spasso, quindi sicuro ha preso le armi mitiche. Come lo spasso? No, lo spasso. Arriva, arriva. L'ho distrutto entrambi. Body edici, ho tentato. Ci deve essere un volto a qualche parte. Ok, qua non posso spaccarlo. Quindi mi sa che qui il volto. Io ho le C4. Con le C4 butta giù. Sì, guarda. Poi c'è la porta chiusa. No, quello è uno scagnozzo. Quello! Eh sì, guarda quanta vita ha, Martino. Barca, guardami. Guardami. Di trabicerino, l'ho acceso. Guardami. Guardami, girati, girati. Posso tirarti gli scildini? No way. Cos'è? Come faccio? Tasto destra e poi sinistra. No! No way. Prendi la card. Questa è una bella cosa. La card è la vada città da Nigrolicerina. Nigrolicerina. Guarda che c'era un altro posto dove scansionare un nemico, eh. Guarda questo. Questa è la piena di vita. Vediamo. Eh no, mazzalo. Eccola qua. Prendi la card. Oh, l'arco mitico, l'arco mitico. Ah, sì, mi dice. Deve andare. Ma, non... Vieni, mi dico, ma. Andiamo subito al Volt. Vai, apri. Vai, sto qua. Dimmi se non è Apex, ti prego. Prima è in giornata, però. Ok. Ah, era un Volt stupido, mi sa. Era Volt. C4, le prendi tu? Esca. Esca. Sì, guarda, butta, le sono le cose di Mirage, di Apex. Guarda. Non ci credo, non sei, o no? Ti seguono e sparano pure. Davvero fai? Ma non hitano nemici? No, però... No, perché sono delle... Dele... Dele coi. La fiocina non è finita. Ma sono questi datati? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Entra qua dentro. Entra dentro. Disreboot qua, what the f***? Ah, ma c'è un problema di qua vicino, eh? Barca, c'è un problema della safe. Si serve la barca. Era qua vicino. Là la barca. Ho due medikit, eh? Io non ho niente. Massimo paghiamo, eh? Allora, siamo più o meno vicini, giù. Se seguo il fiume ci siamo arrivati, ci siamo vittoria. C'era un flow, ah no. No, ce la facciamo, ce la facciamo. C'erano poche casse. Vieni. No, me l'ha ripreso. Mi ti elimini? Quanto male fa l'arco. Hai capito? Questa è la zona nuova, eh? Magari, non è quanto sta. Allo scar mitico, mi sa. Allo scar mitico, allo scar mitico. Mi ha spaccato. Eh, eh, io vado, è 9. No, è solo. Sì, sì, hanno lo scar mitico, hanno lo scar mitico. Sono pieno di gente, si stanno freddando tutti. Io sono i 9. No, c'è un migo. Ti fai da no. Staccato. È pieno di gente, è scarso. Alla sotto. Mi hanno fatto un sacco di 33. Dici due. Vedi, questo lo scar- No. È rimasto l'ultimo. No, sono due. La terra. Da me? Ah, l'altro tutti. Da me? Bianco? L'atomican, no. La tomican oro. Posso prenderla? Non l'ho trovata. La prende, la prende, la prende, la prende. Però questo scar è potenziato, è un oro diverso. Bara. No, è una minigun. No, è una minigun. No, è una minigun. È una minigun. È una minigun. È una minigun. Vai, vai, vai. Voglio fare l'atomican. E' una minigun. Allora, la mitraglietta. Ma hanno esagerato. No, non è che hanno esagerato. Hanno mega esagerato. C'è anche il Barret. Sto a bagno? Eh? Ah, dove andiamo? Troppo avanti, si è andata. Nella monnezza. C'è gente? Ah no, sono le bot. Perché le bot qua? Entriamo qui? Proviamo? Vai. Andiamo fuori. Sei frosico. What? Ah, questo è l'alto posto. Vieni, 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 vieni. Ma ho sparato con lo scarro e mi sembrava una mitraglietta, te lo giuro. Vabbè, non è un assento. Mi sono sconsignato a questa cassa. Il Barret? Ma non è quella forte. Vabbè, comunque viola la barca. È un Barret, sì. Entriamo in questo? Vediamo che c'è? Vai. Ah. Ah, ma questo spot, questo è un buono spot adesso, sai, eh? Questo qua, questo benzinaio di me*****a. Eh beh, sì. Perché se ho capito bene, questa roba sta qua sotto. Guarda quanti divani, guarda quanti divani. È pieno di legno, qua di foglio di legno. Chi l'ha quasi fuori di legno, va sotto a prendere armi viola. Quella sta facendo... Ah, no, mi sarà già... Mettiamo già un po', guarda lì che sta succedendo. Ma lì è finito il fight, ah? No, ci sarà qualcuno. Oh! Non te l'aspettavi? No. C4. Ti che è piccola. È l'oro. Non lo so, esco. Non ti ho detto di sentire il rumore del Barret? Sono morti. Ma io ho paura del Barret. Dove più il Barret si muore. Hai capito, Fra, sì? Uh! È la capa mitico! Uh! Già, gente! Già, 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 già. Ah, li vedo. Fate in egg. Era un paddle, ho preso. Li voglio rassalare un po'. RC4, ricorda? No, non sono lì, credo. No, non sono lì, credo. Ah! Ha tornato alle trappole, questo. Baxato. 100. Dead. Vabbè. C'è lo scar mitico, se vuoi. Ce l'ho già, ce l'ho già. Non andavo gli scar. Vale, ho trovato gli altri test così. Comunque sì, sono buggati come un'altra volta. Che se rompi entra, entra, dentro. Ce l'hai rifiuto, vuoi? Padono, 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 padono. Padono. La sento, sta pad, però, non lo vedo. Ah, li ho visti, guarda lì. Li tiro tutte le lecciate, le sei prontate? Vai, vai, io vado di sbarca. Ma se la sera, se la farla impazzare quel fai. 150? Vai, aspetta. Vabbè, prendo tutte le kill. 60 ha fatto. Vabbè, non ha senso, non ha senso. Cioè, ragazzi, le armi mitiche sono ridicole. Cioè, oh mio Dio. Ma hai visto la Tommy Gun e lo Skyrim? Quanto sparano veloci. Eh sì. Mio Dio, raga. Non hanno senso queste robe. Andiamo in Lega Campioni? Tutto in un giorno?